ciao amici benvenuti nel mio canale Neme Cucina io sono Adriano e preparerò tre ricette alla settimana il lunedì mercoledì venerdì oggi preparerò per cena un'insalata con pollo sfilacciato seguite la ricetta ciao ho comprato un pollo e l'ho già sfilacciato praticamente prendo la polpa e la sfilaccio così come la taglia pizzettini piccoli insomma serviranno due cucchiai di maionese un bel cucchiaio di senape mezzo cucchiaio di paprika dolce mettiamo un giretto d'olio ora mescolerò tutto e poi preparerò l'insalata ecco qua l'ho mescolato ora taglio un iceberg ecco qua l'ho tagliata e ora la lavo poi compro ogni tanto questa carota tipo a fiammifero la mischio con l'iceberg ok ho rilavato anche la carota ora preparo il piatto e assaggio ecco a voi l'insalata di pollo sfilacciato è veramente buono se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella e mettetemi qualche commento ciao